Nel 1919 Walter Gropius diede vita al Bauhaus, la scuola del costruire, una scuola che riuniva in un solo luogo i contributi di arte, architettura, pittura, scultura e tecnica, mantenendo lo spirito collaborativo del laboratorio artigianale e puntando ad un modello di progettazione integrata. Il Bauhaus si impegnava a superare l'annosa questione della tradizione storicistica, del decorativismo e del distacco tra arte e artigianato, affrontando di petto e con senso pratico i problemi sociali ed espressivi emersi con l'avvento della produzione industriale ed in seguito alla tragica esperienza della guerra. Artisti ed importanti architetti insegnarono i fondamenti del design industriale nell'ottica di ideare oggetti essenziali, artistici e funzionali e di operare una sintesi fra arte e tecnologia con un focus sull'abitare e sulle nuove esigenze dell'uomo. Erede delle avanguardie d'anteguerra, il Bauhaus non fu una scuola come un'altra, ma rappresentò il punto di riferimento per tutti i movimenti di innovazione nel campo del design e dell'architettura del XX secolo.